No, ferma, 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 ferma! Cosa è la mia? Questa cosa si sa questo? No, vabbè, guarda, vada sola, tu non fai niente, lei vada sola! Mardo, puoi fare anche il furbo? No! No, facciamo un po'? Dove basta? Beh, non lo so, dico solo che è una cosa bellissima! Bellissimo! Buongiorno, mondo! Buongiorno, mondo! Vai, 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 vediamo! Si chiama la girosfera, sei ispirato un po' da Jurassic Park, mi sa? Ah, sì, per favore! E qui, con questa puoi eliminare anche altri giocatori! Finisce oppure... Finisce, prima o poi, te! Eeeh, oria! Ma non è bellissimo, sicuro che finisce! No, vabbè! Ah, ti immagino quando ti facevo cadere l'albero addosso! Oddio, ok! Ok! Non è una energetica! Io posso tirare anche il turbo! Cosa devo fare? Oh, vado sopra! Ma no, è bellissimo! Vediamo! No, no, vai! Guarda che bello, ti importa! No! No! Ok, stavo per cadere! Bene! Benissimo, è bellissimo! Guarda, ciao! Oddio, è bellissimo! No! Come Brucamela! Puoi andare avanti su tutta l'isola! Buongiorno Fortnite! Penetriamo la testa! E usciamo dalla bocca! No, dalle orecchie! Poi penetriamo di nuovo la testa! E usciamo come dei veri gamer dalla bocca! E così si cade! A gonfie vele! No, va bene! Così! No, mi sa che è finito o no? No, aspetta, vediamo! O entra nell'aereo! Si fa così e cade! Boom! Guarda, riprende! Secondo me finisce l'acqua! No, finisce l'acqua! No! C'è un player! C'è un player! Non è possibile! Non è possibile! Maledetto! 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 Mi ha fermato la mia corsa! Maledetto! Come si è permesso! Ho fatto un volo! Di dove? Finito! Ragazzi, questo giro in girosfera è stato bellissimo! Ma bellissimo! Però, anche se a noi è durato 2,56 secondi, poteva durare anche 2 minuti e 50 secondi! Perché quel tizio con la skin di Aquaman ci aveva fermati! Ma non importa! Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto! E noi ci rivedremo in una prossima puntata! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao!